Passa su fifagoin.com e acquista i due crediti a prezzi bassissimi E con il codice Mike è il 5% di sconto, link in descrizione Ti starai chiedendo perché Mike porti la corona? Perché questo è il mio team of the season Salve a tutti ragazzi e bentone a me, sono usciti i dots della Liga Spagnola E voi sapete che significa un anno intero a trovare spagnoli Ora FIFA me li darai? Dove vedrete anche un po' di pacchetti della Bundes soprattutto Che non avete visto nello scorso video Facciamo così per tutti gli altri Quindi anche un po' della Liga li vedrete nel prossimo Che spero sia della Liga, non lo so Lasciate mi piace per supportare la vostra squadra Che magari è in finale di una Coppa Europea E che vogliamo farla perdere? Ma soprattutto per trovare un Tots fortissimo E quasi l'una Ho deciso di fare st'impostazione, cioè un po' a crocco Perché io lo sto registrando adesso, ve lo vedrete da giorni forse settimane E quindi non mi voglio perdere le clip Perché? Attenzione ragazzi, livello 20 raggiunto Ci abbiamo Desai Tanto ce ne stanno mille più forti C'è il pacchetto 25 giocatori e 84 più Sapete che significa se lo apro io? 84 più E invece c'è una bella scelta tra questi qua Io scelgo questo Ho visto che troppava tantissimo Ovviamente nel momento in cui io lo apro Ci stanno quelli della Bundes Ci stanno adesso quelli della Lega Araba Io rimetto la schermata più fortunata Perché ci servirà, ci saranno parecchi in nascondino Ce potrebbe di bene come ce potrebbe di male Nascondino piano piano No portiere, grazie 90 di fisico 91 di difesa Ce stanno tanti meglio ragazzi, sinceramente 80 di dribbling No, mi sa che James 76 di passaggio è orribile Un difensore per forza Un difensore pure scarso direi Oh mio Dio, ma che è James? Oh, la crua Questo ragazzi dropperà Non lo so quante volte sarà droppato Ma penso che dropperà abbastanza Prossimo giocatore 70 di fisico Potrebbe essere un bel attaccantino Però non c'ha forza Sì, è un attaccante sicuro Però c'ha un po' di colpo di testa Ma 70 di fisico Regala nulla proprio 95 di dribbling È tanto Oddio, ma sai Questa è della Lega Araba Per forza 84 di passaggio 89 di tiro Perribile 98 di velocità Che potrebbe essere Robben tira e non passa Oh, Rodrigo Eh, ho letto ragazzi Che era abbastanza rotto E usciva spesso Rodrigo Oh, ma questo è un milione di carta Ma quanto sta adesso Rodrigo? Penso un po' più basso Perché esce a tutti Essi un milione Ok, Rodrigo I will take it 87 di fisico Non so che ce ne stanno diversi i boni 87 di fisico Però ce ne stanno veramente troppi Non è aggressivo Quindi potrebbe essere un attaccante Mmm, 88 di difesa Però sto tranquillo che Non è De Bruyne 89 di dribb Oh, mazza Niente di che Madonna, un mediocre Manco tira Chi è sta pippa? 90 No, questo è un pippone Infatti Cioè, meno male che c'è stato Rodrigo Che ci ha salvato Rodrigo Ormai c'ho 90.000 esterni Ok, grazie Ci stanno carte più rotte, sinceramente Non se lamentiamo Non so che avete scelto voi Però vedetela così Non credo come sarebbe uscita Una carta da più di un milione Da quell'80 del più Ma sai, questo è pure un pacchetto buono Infatti Walkout Ah, 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 ah Non stiamo spacchettando per quello Quindi Uh, pure seggione Baku Cioè, se lo trovo bene Pure questo è di un altro buono Ah, 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 beh, beh, beh Cioè, sti pacchetti Sono proprio gratis dell'SBC Quindi me lo piglio, ragazzi Ho due, otto giocatori Della Bundesliga Tapsoba Mamma mia Che giocatore Tapsoba Ah, a proposito Il torneo Quello che ho vinto Le dieci partite In due giorni L'ho vinto con Tapsoba Dell'Europa League Che è il giocatore Un trattore E se è un terzino sinistro È gioco a Cancelo Che spero non aver doppione Perché se no Mincazzo Ma ce l'ho sicuramente doppione Eeeh Ah, scambiabile Buono Ragazzi, ce l'ho fatta Mi sono dovuto aprire Non se sa quanti pacchetti Per arrivare al TOTS Della Bundes Garantito E al TOTI Mi apro prima Il TOTI 90 più Non fortunatissimo Sto momento, eh Qua lo dico FIFA Con le Icon Non mi ha mai detto bene Prime TOTI Foodbird Dei trofici per le te pare Ma me la devi davvero fatta bene Non te ne chiedo tante Te ne chiedo una Come ne devi da Uno fatto bene Per favore Uno che posso mettere nella mia squadra Allora, l'unica sculata È stata Vidic TOTI Solo che mo' sono idiota Mi sono reso conto Che non ho scartato Le Icon Puzzolenti Ok, è un 75 di fisico Però resistente Devo dire Probabilmente è un attaccante 75 di fisico Non c'è niente che mi interessi Ammazza però 75 di difesa 93 di dribbling E però Con tutto sto dribbling Però c'ha tutta quella difesa Non può essere nessuno De quelli straforti È uno scam Oh, 96 di passaggio Che sta che c'ha il dribbling così forte E il passaggio così forte Che però difende E non c'ha il fisico Vediamo il tiro Tiracchia pure Non è che è tipo Un Gerard Di quella gente là Vabbè però passaggi dribbling Sono buoni No, ce l'ho già Mamma mia Che scam di gioco Il mio pirlino Che era pure buono Ragazzi Ho fatto la cosa giusta Ho regalato L'ultima partita Livelli Ci abbiamo addirittura Tre Tots BPL Tre Tots Da Bundes Allora È sempre quel giorno Ragazzi Devo aspettare Che il signor Pirlo Se ne vada Utilizzeremo Questa immagine Forza FIFA Forza FIFA Forza FIFA Primo Tots Non è Cobble Buon fisico 91 di difesa 80 Dribbling Niente Non è Bellingham Perché c'ha tutti 90 Però ce li potrebbe avere Pure Guretzka Che può essere questo qui 76 di passaggio Niente dribbling Niente passaggio Però difende Ah mi sa quel difensore Del Borussia Dortmund Ah no è la Crua Ragazzi non me li so studiati Quindi saranno per me Delle sorprese 80 Di fisico Quindi niente Non è Guretzka Non è Beh questo è coso 96 di dribbling 90 di passaggi 90 di tiro 86 di velocità Chissà Ah è Brant Mamma mia che schifo Vediamo l'altro Fa schifo 94 di dribbling Ok 80 cosette di passaggio 90 di tiro Ah si corricchia Columani Questo è proprio il pick Dei peggio in assoluto Allora potrei prendere Brant Per l'overall La Crua l'ho trovato Do me pare Se è la Crua non ce l'ho Ah è Brant ce l'ho Columani Vabbè Vai la Crua Beh ragazzi Non è andata molto bene Non è andata molto bene Però ci abbiamo delle possibilità Ci prendiamo a Rez Qua Mamma mia Sancio Pancio Mamma mia 84 più 84 eh Eh FIFA eh Eh oh Sané ce l'ho già Che faccio ragazzi Vabbè tanto devo da via pure Pirlo Quindi prendo Sané Ora però Fai il tuo Ce ne sono alcuni golosi Mi piacerebbe Ma pure Alfonso Davis Però Jude Bellingham Ancora più bello Alfonso De Leon Goretzka Che deve tornare dal suo mister Ah 78 di fisico 51 di difesa 94 di dribbling 87 di passaggi Questo chi è? E' quello di prima Columani Mamma mia Che schifo Ok vabbè Allora ce l'hai dato Ma dammene uno diverso Grazie 80 di fisico 60 Ma porca madosca E il mitico Il grandissimo Il più forte Difensore Guarda Poi dici non bestemmi Comunque ragazzi Questa che me la so Tra virgolette giocata Guarda che schifo Ti premi Sì Sono un idiota Ho trovato Tots Però siccome stavo prendo Tutti sti pacchetti brutti L'ho schippato Oh Frimpong Non è male 200.000 Dai buono Dai mettilo dentro Scambiabile poi 11 giocatori Bundesliga 81 più Me l'ha dato adesso il Tots Quindi adesso me ne ridarà un altro Perché mi sono giocato tutta la Weekend League Brava FIFA Brava Francese Columani Eh niente Non si scappa ragazzi Vuoi dire Mamma guarda che il francese Sta pure in concu Eh veda a te Columani in tutte le salse Sotto non credo ci sarà nessuno Perché è 92 Io ragazzi Goresca Goresca vorrei E voi dire Che è sto cazzo È già trovato Musiala È al primo giorno Ho capito I have a dream Attenzione perché ho Tre giocatori Della Bundes E il giocatore Della Bundes Poi uscirà pure Un altro garantito Questo è quello Del torneo E allora adesso È il momento Di Jude Bellingham Allora a me I rubinetti Sembrano particolarmente Yusi Allora non ho sudato troppo Per fare sto pacchetto Perché ripeto Ormai C'ho una streak De 20 partite consecutive Prima o poi ragazzi Cadrà Bellingham Mi hai portato un po' male Sai che succede? Bellingham Vatta a fangiro Non te voglio più Voglio lui Ponce de Leon Vai FIFA Vai FIFA Anche se è molto difficile Perché è un tot's moment Se me ne dai uno diverso Dal solito Non farebbe male 90 Se si parte con 90 Quasi anda bene Però non è lui 92 Ah è quello di prima No 92 98 dei passaggi Ah non tira Ah non è lui Allora aspettate Chi può essere? Non è Bellingham E non è neanche Goresca Qua c'ha 98 dei passaggi Però non tira Non è Musiala Ah chi è Joshua? Poteva di peggio Joshua Kimmich A quel take it Mazza 98 dei passaggi Joshua Questo pure è un bel cane L'hanno fatto però forse Troppo offensivo Può fare il terzino Joshua Quanto sta Joshua Kimmich? 400 Vabbè Ti devo dire Allora vediamo come Come era andata la situazione Ce lo guardiamo uscire dal pacco Pots Va bene Della Germania Cdc Insomma Ragazzi molto molto buono Dai 96 Uno dei più forti Tra l'altro Dove roll E allora ragazzi Apriamoci I nostri sudati Premi Della Wien League Tre giocatori Della Bundes Lo voglio fare però Con Ponce de Leon Lo faccio con il nascondino Forza FIFA Deve essere uno Giocoso Uno che potrebbe andare Nella titolarità Della mia squadra Tipo Alfonsino Davis 90 Potrebbe essere chiunque 92 di difesa 92 di dribbling Mazzabono Non è quello di prima Kimmich è quello di prima No di nuovo Kimmich Vabbè però 96 Kimmich Scambiabile però in teoria Da capire Da capire Andiamo a quello dopo 80 vabbè 60 Questo è Brandt Mamma mia Brandt Mi sta perseguità Eh però 96 93 L'altro è una pippa Mamma mia Ah no Due non scambiabili Perché sono scambiabili Ma che è sto scam No vabbè ragazzi Io non ho parole però Due volte De Bruyne Due volte Kimmich Ero sicuro fosse scambiabile Il mondo lo fiondo questo Ve posso chiedere So fortunato o no Perché non riesco a capire Se ci vogliamo riscaldare Con un pacchetto Della Liga Araba C'è Cristiano Ronaldo Allora io che ho fatto Ho messo questa foto qua L'altro sembra pure un po' Incrandito Ronaldo Non so se c'è il portiere Se c'è il portiere Sbrocco veramente 81 Non è Ronaldo Ok Però è un attaccante Potrebbe essere Talisca? No non credo 81 Non mi pare poco Però 99 99 Questo forse è Romarigno 87 di passaggi Non è Talisca 84 di No è una busta Chi è sta Papa Ah Fa Usair Mi sa che ho preso Il più puzzone Regà Ronaldo Non vali niente Dai FIFA Pozze da Bundesliga Che non ho Ok Non ce lo devo avere Madonna Madonna Santa Madonna Santa Madonna E sotto non c'è niente Perché è 92 È un puzzone Orribile Schifoso Lighto E' corrotto Eh Vabbè Fammi vedere Mamma mia Eee Slotterback Non l'avevo ancora visto Slot Non credo si chiami così Però vabbè Eee Mamma mia Full Krug Dai Mamma mia Devo spengere la Playstation Perché sta andando Veramente malissimo Vabbè Niente 29% Di possibilità Di trovare il Tots Non della Liga Ma Tots C'è Cristiano Ronaldo Attenzione E' il tuo momento Primo pacchetto Dei Tots Della Liga Ah E infatti Ve l'ho detto Non c'è certezza Che vi ho detto Che esca Uno Della Liga E infatti E' uscito Igalo Ve lo ricordate Nei panni Dell'Udinese No Infatti E' lui quello che E' andato da un certo punto Allo United Così E' proprio A cazzo di cane Se avete visto Comunque è meglio De quello che ho trovato Io Uh Saul E Skrignar Che guardate Doppione Ho puntato i pacchetti stellari Perché so Che Oh Moments Dai Fekir Vabbè C'era Iorente Oh guardate Ragazzi Io lo dico qui Gli spagnoli Ovviamente Sono quelli più ridicoli De questo Di modo Però alcuni Sono buoni Ti fa uno Cioè premiammi Una volta In tutta la stagione Ma puoi premiammi Alla fine Allora Militao Quindi insomma Piuttosto buoni Guarda qua Non mi interessa Non mi interessa Non mi interessa Non mi interessa Fortunatamente L'abbiamo anche trovato Dots Molto buono Devo dire Molto buono Guarda Blu 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 Ok Della liga spagnola E spagnola No 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 Questo è il dribbling Pazzo Allora guardate Sta carta Che era un meme Che ho visto Quella Tombakti Vabbè Sta scammata Che devono uscire Sti Pazzi Furiosi Vabbè Allora guardate questo Ragazzi Ciao Non è sto 88 De velocità Statistiche difensive Tanto non userete mai Guardate quel 70 De dribbling Perché è usceno Guardate E lo sapevo Che meritava Robbers Oh ragazzi Mi sta da sempre Stessi Merita per Puttarli via Guarda dribbling 99 di agilità 99 di equilibrio 99 di riattività 44 di dribbling Ma che c'è Un razzo Cos'è un razzo 99 di forza Che succede Attenzione Tanto ce l'ho già Ce l'ho già sicuro Eeeh Vabbè Guarda Sapete che dovrebbe fare FIFA E penso lo faranno Nel prossimo FIFA Non si chiamerà FIFA Devono fare quello che c'è Per esempio Su FIFA mobile C'ho il doppione Se vuoi lasciare Sbc Lasciale Però Fa in modo che io possa mettere Ne so Determinati Carte oro O carte Speciali 11 tots Buttati Eeeh In quella Sbc Mi dà la possibilità Di trovare Un tots Un upgrade Capito Oh Uh Moments No fakir No fakir No fakir Aaaaaa Vabbè 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 Siamo andati Allora Ragazzi Vai Due Sottetrovati Tots Moment Avigalanna Non sembra manco male come carta Devo dire In vero In vero Capiamo che body type c'ha E che giocatore è Però Mi sembra male Quanto sei alto Avigalanna Ma è 1,72 Me ti metto in tasca io Cavolo Ce lo prendiamo ragazzi Anche se Vogliamo far usci Marco Assalunzo Che schifo Perché è Marco Assiorente Però vabbè Allora ragazzi Ultimo E ce ne sono andati 100 euro Lo sapevo E uno che già c'ho Guarda Alison Becker Ma va a cagare Alison Becker Eeeh Basta Questi pacchetti Tots Dove ci sono I prestiti Ok Uh Mendy 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 Ma Mendy Che fine ha fatto Vediamo se almeno I prestiti sono golosi Eeeh E vai Eccolo Ma sai ragazzi Questi due li Li troveremo a nastro Tutto 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 il tempo Tutta la weekend league Che non penso di giocare Uh Pedri Pedri perché ce l'ho già ovviamente Ma pure un Valverde FIFA Ma pure un Valverde Cioè non è che Devo andare troppo in là Vanno bene pure Un po' meno Un po' meno Un ma qua Un ma là Ma un ma qua E adesso Che ti devi dimostrare Un gioco Mamma mia Tony cross È vero È vero Vabbè però vabbè L'abbiamo evocato Dai Prestiti almeno i prestiti No Valde Valde che sembra Un bel terzino Eeeh Uuuuh 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 Eccolo iorente Però me lo devi dare anche Scambiabile magari Scambiabile A parte scambiabile Ragazzi Allora Molina uscirà come una merda Gabby Veiga Mi sembrano schifo Quindi prendo Molina Ok E l'ultimo Uno forte Signore di FIFA Non si può fare Beh devo dire ragazzi Non molto fortunato Con questi tozzi Della Liga E dai che siamo là Ma poi Courtois Come ha fatto A non vincere Un tozzi Vabbè Che l'ha vinto De Stegen Giustamente Però stiamo lì Ragazzi Stiamo lì Allora saliamo poco 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 E andiamo a DC Real Madrid DC Real Madrid Brasile Eccolo 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 DC Brasile Uuuuh No va Te n'affanculo Scusate ragazzi Scusate Mi è uscito dal cuore Mi è uscito dal cuore E Alexander Arnold Se ne va Vabbè Restiamo in Brasile Se vogliamo salire Poco poco di più AS Eh sì Tu sorella Non lo voglio manco vedere Perché tanto ce l'ho già Guardate Ah Varan 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 Però Varan Era ex Real Madrid Voi mi insegnate E chi ha preso il posto di Varan Quando se n'è andato Eder Militao Che guarda un po' Sta Uuuuh No Il cazzo sta Ah Hurricane Ragazzi mi piange il cuore Vi tengo l'ho in queste condizioni Eh se te fate da Mentoz Fatto bene Della Liga An Per favore No Della Liga An E della Liga Spagnola Sì No Eh qui ovvio 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 Ma ovvio No questo è pure schifoso Oh Che devo fare Che devo fare Ma perché Mi punisci così Tutto l'anno gli spagnoli Ma mi devi da tutto l'anno Sto coglione Ma l'hai dato già tre volte L'ho scartato tre volte E lo riscarto E adesso che si vede Che si vede la differenza Tra gli uomini E i ragazzini 72% Dei possibilità Di trovare il Tots Blu Blu Non ci posso Credere Li mortacci Tua Son Che scam Incredibile Guarda E in prestito Almeno uno Buono Te prego Non ci credo Non ci sto a credere Ragazzi Non ci sto a credere Mi sta a perseguità Mi stanno a perseguità Merrino Marco Merrino Prendiamo un manico Ho provato Devo dire ragazzi Piuttosto decente Non è Cambi molto Da quello che Giovo io Vabbè Avigaland Dai Vieni Rotti i coglioni Allora Se non sta uno forte qua È una merda Ecco Possiamo avere Uno De quelli decenti Guarda Mi attacca Goretzka Ti prego C'è il 22% Possibilità Di trovare il Tots Dai Blu Ok Della Liga Spagnola Forte Marocchino Add Chi c'è Fusair Meno male che me lo son Dato via Ragazzi Me lo son dato via In un SBC Festival Rimaniamo in quel momento Ragazzi Rimaniamo in questo momento Dai Dai FIFA Dai FIFA Blu 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 Ancora Blu Eh niente Chi sei L'unico spagnolo Che non ha preso il Tots No raga Non me lo vuole dare Non me lo vuole dare Non me lo vuole dare Bah Eppure lui Joshua Grazie Fortissimo Però mai rotto Il cazzo Te prego Damme 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 tregua È lui Guarda È l'ultimo È l'ultimo È l'ultimo pacchetto È l'ultimo pacchetto È l'ultimo Ok Uno forte No Non è forte Molina Vabbè almeno me l'ha dato Ce l'ha fatta Grazie eh Grazie Che era l'ultimo pacchetto Ho detto Molina Vabbè Ma ci ha dato due volte Chimic Allora Grazie Grazie Però Quindi a sto punto ragazzi Io vado con quello più fortunato Di tutti E mi aspetto Cobble Dai FIFA Te prego Uno diverso Uno che non c'ho Uno che non c'ho Te prego Oddio te immagini Ci merita Musiala C'è la durita dei doppioni Cioè quanti doppioni avete trovato Quest'anno Una cifra Oh ecco 90 Era pure buono Però troppa poca aggressività Per essere Il mitico Il gran No questo è Oddio no È quel Come si chiama Il francese difensore centrale La crua È come si chiamava Abbiamo trovato rosso Se non mi sbaglio Eppure questa Ce l'avevamo già Beh che dire Follettine e follettine Mi sono ricordato Di avere un giocatore Toz proveniente Proveniente da Qualsiasi squadra Della stagione Tanto peggio De così Tanto peggio De così Però dopo Ci abbiamo l'Icon Attenzione Attenzione Ragazzi C'è dolore In questo Bacca C'è dolore È impossibile Veramente Doppione Ah no Poteva essere chiunque E perché proprio Uno che ho trovato Cento volte Uno utilizzabile Uno capito Che c'è svolta Il pacco opening Che te devo dire Vai FIFA Vai Premiami Io raga Sto puntando A fare il nascondino So che alcuni piace Altri no Però almeno questo Mi dà un po' di brivido Perché se dovessimo vedere Adesso una bandiera De merda No A parte che così Scopri subito Che Icon è Invece Non sai se è un Icon Todi È un Birthday Guarda io Io mi accontento Di tutto Tranne che sia portiere 75 di fisico È pochissimo È molto resistente Pochissima forza Elevazione Aggressività Potrebbe essere un attaccante 75 è puzzolente Ti debbo dire Vabbè no La difesa è 75 Che è comunque alta Quindi Centrocampista Ok 93 di dribbling Ci posso stare Va bene Però non c'è equilibrio Quindi è un pennellone 96 di passaggi Oddio non è pirlo De nuovo No No se è pirlo De nuovo Regà scapoccio No non penso Perché passaggio corto C'è solo 97 No le punizioni Sì no Questo è pirlo De nuovo C'è un segreto Non c'è credo No vabbè raga Non è possibile Non è possibile Non è possibile Dai non è possibile 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 Non è umanamente possibile Sta cosa Footbird Prime Sempre lo stesso Possibile Io non ho parole Veramente